Intervista a Sette Raichi, siamo qui a Brinzio dopo una gara durissima, siamo qui con altri due atleti di vecchia data, Lidio e Roby. Iniziamo prima da Lidio, Lidio com'è andata? Sì, bellissima, gara organizzata molto bene, bella, percorso duro ma fattibile, stupenda. E tu che sei noto per avere molto caldo, come faceva oggi? Eh beh, caldissimo, caldissimo, caldissimo. No, toghi i tiri, togli i tiri, togli i tiri la maledetta. No, no, gara bella, percorso stupendo, ben segnalato, sì impegnativa ma non eccessivamente. Io ho trascinato mia moglie che ce l'ha fatta, anche senza allenamento, perciò contenti e soddisfatti. Contenti e soddisfatti, funghi trovati? Funghi sì, li ho trovati sotto le calze. Adesso andiamo a intervistare le donne.